Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, corgasmi che sono qui a portarvi un nuovo video dei Potential Transfer di gennaio. Questo è un episodio abbastanza speciale, diciamo particolare, perché riguarda un intreccio di mercato veramente clamoroso. Però prima di cominciare vi invito subito a lasciare un bel like, così se arriviamo subito a 400 mi piace uscirà presto un nuovo video. Quindi partiamo con il dire che in questo intreccio c'entra molto, anzi moltissimo il Chelsea. E partiamo subito con il primo giocatore di oggi, cioè Mohamed Salah. Sappiamo che Mohamed Salah gioca nel Chelsea, è stato acquistato dal Basilea per una cifra intorno ai 16 milioni più bonus, circa. E visto che il giocatore è comunque molto giovane, 22 anni, non ha trovato molto spazio nel Chelsea. Basti considerare comunque i giocatori che ha davanti il Chelsea, quindi è anche capibile questa cosa. Si parla di un interessamento molto molto importante da parte della Roma, che appunto vorrebbe aggiudicarsi il giocatore. Il Chelsea comunque non vorrebbe perdere soldi, visto che comunque l'ha preso circa due anni fa, qualcosa del genere. Quindi si è parlato di un prestito, visto che hanno parlato già con la società, si è parlato di un prestito di circa un milione più 15 milioni di diritto di riscatto. E quindi se la Roma dovesse riscattare il giocatore poi dopo 18 mesi, credo, sia il prestito, quindi di un anno e mezzo, verrebbe comunque una cifra intorno ai 16 milioni e il Chelsea potrebbe comunque accettare questa offerta. Poi andiamo al secondo giocatore di oggi, un altro giocatore in uscita dal Chelsea, stiamo parlando di Andre Schurle, che a dire la verità io quando l'ho sentito ci sono rimasto un po' male, perché comunque Schurle ha sempre fatto bene nel Chelsea, ma anche con la Germania, quindi non capisco perché voglia cederlo il Chelsea. Comunque si parla di un interessamento molto forte del Wolfsburg, che come sappiamo sta giocando molto bene quest'anno in Bundesliga, e un ulteriore rinforzo come Schurle potrebbe determinare comunque una squadra veramente molto forte in Bundesliga, una nuova forza per la Bundesliga. Quindi 30 milioni forse sono un po' tanti per Schurle, però se il Wolfsburg è disposto a pagarli ben venga per il Chelsea. E quindi con questo gruzzoletto di 30 milioni più eventuali 16 milioni per Salah, il Chelsea potrebbe avere un capitale, un grosso capitale da poter investire su un giocatore in particolare. Parliamo di Quadrado, della Fiorentina, che in questi ultimi due anni circa si è parlato molto di una cessione per Quadrado, in diverse squadre inglesi ma anche tedesche. Comunque parliamo quindi del Chelsea che vorrebbe prendere Quadrado, in realtà Quadrado ha una clausola rescissoria di 35 milioni, quindi abbastanza alta, preferirebbe la squadra di Abramovic spenderne 30, però comunque sì, adesso si vedrà nei prossimi giorni cosa succederà, e io penso che se il Chelsea riuscirà a chiudere queste prime due trattative, di sicuro pagherà la clausola rescissoria di Quadrado, il che sarebbe comunque un gran rinforzo per il Chelsea. Bisogna vedere poi come si rinforzerà ulteriormente la Fiorentina, comunque dopo aver preso Diamanti e sembra quasi essere arrivato Gilardino. Comunque ragazzi, come sempre l'episodio finisce qui, vi invito come al solito a lasciare un bel like, come ho detto all'inizio del video, 400 like uscirà un nuovo video appunto. Scrivetemi comunque nei commenti altre cose importanti, altre trattative, rumor di mercato, perché sono sempre ben accette, potrete trattarle nel prossimo video. Vi invito sempre a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!